Ciao a tutti, perdonate la capigliatura oscena che sembra nel migliore dei casi uscita o da un gruppo emo sfigato dei primi anni 2000, non quelli belli, proprio quelli sfigati che spariscono dopo un album o nel migliore dei casi ancora da un membro di una boy band coreana, ma questo è il mio taglio normale di capelli. Ho appena fatto la doccia e non ho voglia di sistemarli come al solito, dato che lo farò anche domani mattina, adesso siamo a notte fonda, quindi vabbè, vi accontentate di questo Matteo Fumagalli in fase fungo. Vi sono mancati i miei video riflessioni? Spero di sì, non ne faccio uno da un po', e ho deciso di affrontare un argomento che probabilmente alcuni di voi, che sono i più assidui frequentatori del mio canale, avranno già sentito, avranno già carpito, diciamo, ma secondo me è proprio bene fare un video apposito, anche per scatenare del dibattito, ed è quello che voglio fare con i miei video riflessioni, sentire i vostri pareri. Diciamo che questo argomento di discussione che presenterò non è nuovo per alcuni di voi perché è una delle cose che cerco di far capire attraverso molti dei miei video, che è un consiglio anche per chi, per guardare con occhio diverso le opere narrative di qualsiasi tipo, che siano libri, film, quello che è, e anche per gli scrittori. Ed è il tema del, le storie non sono finite, perché quante volte vi sarà capitato di sentire da persone, da persone di qualsiasi genere in verità, la frase, tutte le storie sono finite, è impossibile creare qualcosa di nuovo. E secondo me è sbagliato. È sbagliato perché innanzitutto non è vero, e adesso vedremo perché. E secondo, è una brutta limitazione della creatività umana. Come sempre vi ho detto, infatti questo è un argomento che torna spesso e cerco di stringere, non è la storia che interessa la persona che legge o che guarda un film. Crede che sia la storia la parte più interessante, in verità non è vero. Non è vero perché altrimenti dovremmo chiederci perché ci sono dei libri o dei film con delle storie insulse, insulse in termine positivo però, insulse nel tipo perché mai dovrebbe interessarmi una storia del genere, che però sono dei capolavori. E dobbiamo invece chiederci perché ci sono dei libri e dei film con delle bellissime idee, delle bellissime sinossi, che invece sono delle porcherie pazzesche. Il motivo, ve l'ho già detto molte volte, è quello del non è importante cosa dici ma come lo dici. È un po' la questione, per farvi capire, di una barzelletta. Una barzelletta brutta anche, raccontata dalla persona giusta, con piglio dell'humor, può farti ridere. La più bella barzelletta del mondo, raccontata da uno che si impappina, che non sa parlare, che è timido, vi lascerà il gelo addosso. E' quello il principale esempio, l'esempio più lampante per farvi capire quanto è importante il modo di presentare una storia. Ancora un modello, un esempio ancora più semplice, qua siamo in campo business, non lo so, ad esempio, voi avete il progetto più figo del mondo, però lo presentate male perché siete silenziosi, fate troppe pause, vi impappinate troppo. E il vostro concorrente è uno che invece ha un progetto un po' così, un po' sì, carino, niente di che, però ha la parlantina. E sa cogliere i lati forti del suo progetto. E nonostante il progetto vostro sia molto più bello, molto più riuscito, è probabile che l'altra persona raggiunga l'obiettivo, no? Ed è un altro caso nella vita reale sull'importanza del raccontare qualcosa, più che del cosa raccontare. Ed è assurdo, è paradossale, ma è così. E allora, torniamo al nostro concept del non esistono storie originali e quindi è lecito, non si può fare altro che copiare degli stilemi, degli schemi. È vero fino a un certo punto questa cosa, nel senso che gli schemi, affinché una storia funzioni, bisogna seguire uno schema preciso, no? Non so quanti di voi abbiano studiato scrittura creativa o sceneggiatura, ma c'è uno schema di vari step che costruiscono la storia perfetta. Non tutte le opere narrative seguono questo schema, assolutamente, ma in linea generale ogni opera narrativa nasce, ad esempio, da un desiderio di un protagonista. Un protagonista che deve raggiungere un obiettivo e che lo raggiunge o non lo raggiunge dopo una serie di fasi. Il problema è che anche quando noi vogliamo creare uno schema, uno stilema, esistono infinite variazioni che possano costruirsi su quello schema. Quindi è un concetto, è una regola limitante, ma non è vero che è limitante, perché tutto dipende da come costruisci la tua storia. E se pensate che esistono molte opere narrative più ardite, più sperimentali, che questo schema non lo seguono, voi già vedete come... Già infinite sono le possibilità di seguire quello schema e pensare che si può anche non seguirlo, crea altre infinite possibilità. Prendiamo uno degli argomenti più strabusati di sempre, l'amore. L'amore è un tema che è fondamentale nella narrazione dell'essere umano. Pensiamo a quante opere sull'amore esistono. In letteratura dall'antichità si parla di amore, non lo so, ancora prima ci saranno infinite altre opere, ma a me viene in mente, per stare proprio in tempi remoti, il simposio, che è tutta un'opera filosofica sull'amore. E ancora oggi, nel 2017, stiamo qua a parlare di amore, e ne parleremo ancora. Anche non la letteratura, il cinema, la musica, cioè l'80% delle canzoni sono sull'amore. Però quanti sono i modi di amare? In quanti modi si può parlare di amore? Infiniti. Perché l'amore non è solo l'amore romantico, l'amore positivo, è anche l'amore familiare, che è sempre amore positivo, può essere anche amore ossessivo, e quindi amore negativo, amore violento, amore possessivo, amore carnale, quindi amore spirituale, senza il sesso, amore che svanisce, amore eterno, ok? E ogni tipologia di amore ha infiniti modi di rappresentazione. Consideriamo anche che la storia umana va avanti. Ad esempio, internet, l'avvento di internet, che è diventato di massa negli anni 90, ha iniziato a diventare di massa negli anni 90, quindi è una cosa relativamente molto recente, ha portato a soluzioni narrative nuove. Nuove, ad esempio, la comunicazione di internet è non lineare, perché viaggia su link, hyperlink, non segue uno stilema, una struttura ordinata. E pensate a tutto il postmodernismo nel cinema, e quindi una narrazione non lineare, è nata in quegli anni lì, la letteratura che è diventata, molta letteratura è diventata affine all'invenzione di internet, e si è sperimentato su quel campo, e quindi ancora tantissimi altri modi di comunicare, di raccontare. Pensiamo anche alle cose più frivole, alle cose che io stesso ho criticato, no? A Wattpad. Wattpad è una rivoluzione sotto certi aspetti, no? Rafforza la letteratura dal punto di vista di interazione con l'utente, l'utente diventa coautore di un'opera, e quindi già queste cose dovrebbero farci capire quanto si può raccontare. Anche il copiare, tornando sul concetto del copiare, Copiare. Perché? Nel senso, il problema che noi vediamo, parlare, seguire uno stilema come copiare, il copiare è quando prendiamo un'opera e ne facciamo un'altra uguale, ma c'è una differenza tra copiare e ispirazione, no? Ispirazione o quantomeno Ritelling. Pensate a quante opere di Ritelling ci sono. Non lo so, è una cosa che va molto di moda anche tra i giovani, prendere per modello di ispirazione, non lo so, una fiaba, e poi una fiaba classica, e raccontarla da un punto di vista contemporaneo, moderno. A me viene in mente la trashata Cinderella Story con Hilary Duff, che è un film, che è un Ritelling di Cenerentola, moderno, trascino, moderno comunque, no? È un Ritelling, quindi la storia è la stessa da un punto di vista diverso. I punti di vista sono infiniti, ma a Cenerentola e a Cinderella Story, per quanto seguano più o meno uno schema affine, sono due opere diverse. È vero che ci sono opere che si basano su dei cliché, su degli archetipi, ma sono opere a sé stanti, no? Al di là della qualità. Ci sono anche i plagi, naturalmente, ma dire che tutto è già stato raccontato è una limitazione alla nostra creatività. Noi non siamo abituati a considerare le opere come delle possibili fonti, fonti di ispirazione, no? Vediamo, per esempio, un omaggio come un plagio. Ma in verità, quello che dobbiamo dire è tutto quello che è stato scritto, tutto quello che c'era da dire è già stato scritto, quindi dobbiamo ripeterci o copiare, dovrebbe essere riadattato come tutto ciò che è già stato scritto, è già stato scritto tutto. E proprio per questo noi abbiamo ancora più fonti di ispirazione, perché le cose scritte sono un'altra cosa che ci può ispirare. Non è più solo il tramonto sulla spiaggia, non è più la persona amata, la musa ispiratrice. Può essere anche un libro, può essere anche un film. Quindi le opere diventano fonti di ispirazione. Come ultimo esempio, vi posso dire l'esempio più semplice in assoluto, il remix. Il remix di una canzone non è la stessa canzone, è un rimaneggiamento, sono due canzoni diverse. Vi inviterei ad ascoltare, non lo so, io la cito perché è la mia musa, però è così veramente, dei remix di canzoni di Bjork. Vi accorgerete che molto spesso non c'entrano un fico secco con la canzone originale, sono completamente, sono dei remix che stravolgono completamente la canzone di partenza. E la rendono una nuova canzone, molto spesso affibbiano un mood totalmente diverso. Ad esempio, c'è un remix di Hyper Ballad, che è una delle canzoni più belle di Bjork, sognante, tere, allo stesso tempo grintosa, che è stata remixata da un gruppo metal e l'hanno trasformata in una canzone metal. Ed è totalmente un'altra cosa. Il remix parte da una fonte che non è la fonte di ispirazione, come siamo soliti pensarla, ma è un'opera. è un altro prodotto rispetto a quello che stai facendo. Un prodotto che ha fine perché appartiene alla stessa categoria, ma è un'altra cosa. E questo per quanto riguarda l'ispirazione, il copiare e rubare. Ogni cosa ha infinite prospettive diverse. Bisogna saper capire, bisogna comprendere questo per essere creativi, per creare. Non bisogna dire che tutto è già stato detto. Bisogna dire che tutto è già stato detto, quindi io aggiungo ulteriori punti di vista. Perché è possibile che anche duecento anni fa qualcuno dicesse è già stato tutto scritto, non ci resta più nulla. Eppure in duecento anni sono usciti migliaia di altri capolavori, no? E questo dobbiamo tenere a mente. Esistono infiniti punti di vista. Infiniti modi di raccontare una storia. Veramente, è molto importante. Ricordatevelo, soprattutto se siete dei creativi. e anche se siete dei lettori. Pensateci, fatemi sapere la vostra. Io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione. Ciao, ciao. Madonna che capelli.